Allora mister, prima amichevoli stagionali, sono andati bene i giovani, gli stavo dicendo che hanno soddisfatto in pieno anche Molina, Rizzo, Calapai, quelli che sono stati giovani arrivati all'inizio del mercato, anche Maffrin, sono arrivati Babacar e Garofalo, mancano quanti elementi, più o meno completare la rosa, 3-4 titolari. Intanto vorrei ringraziare il pubblico che anche oggi ce l'è stato vicino e forse devo ringraziare anche la cittadina di Fanano che ci sta ospitando veramente bene e tutta la gente ci accoglie e oggi l'accoglienza anche della nuova della gente di Modena è stata eccezionale. Poi per quanto riguarda quello che mi hai detto, ci arriviamo dopo all'ultimo, devo dire che oggi mi è piaciuto l'atteggiamento di questi ragazzi che tu hai detto, abbiamo giocato anche a tre, a tratti e devo dire che sono soddisfatti, è ovvio come sono arrivati due giocatori importanti, due giocatori che sicuramente ci daranno la mano, la società sta lavorando su questo, è ovvio che mancano alcuni, tra virgolette, i giochi delle coppie, mancano ancora tre o quattro virgolette.